SONIC E' a casa! Ehi! Il sensore ha rilevato Eggman! Sbrighiamoci! Dobbiamo trovare Eggman in fretta! Sì, via! Il segnale rilevato era da questa parte! Quest'area non è ancora stata danneggiata! Hai il nemico! È qui in forno! Farai bene a stare in guardia, Sonic! Hei! Ehi! Questa è più importante! Guardare la squadra! Vito del deserto laggiù È Green Hill, giusto? C'è qualcosa di strano Il segnale di Eggman è vicino Stai attento, Sonic Stai attento, Sonic E con questo L'eliminazione del prototipo del rubino fantasma è completa Era un modello di effetto Registrava soltanto il DNA di chi lo attivava Solo un essere con la mia forza di volontà potrà mai attivarlo Non importa ora che laboratorio è isolato a Mystic Jungle A proposito Non ti sei imbattuto in Sonic dopo la sua fuga? Sì Ma non aveva speranze contro di me Non è una fonte di preoccupazione Quindi l'hai lasciato vivere? Questa è una grande fonte di preoccupazione Per te forse Ti sconfigge da decenni Io invece l'ho battuto al nostro primo incontro Prototipo del rubino fantasma E Sonic Sonic è vivo Cosa c'è? Niente Andiamo avanti con il piano? Ma certo E alla fine La resistenza sarà annientata Il mondo non sarà il profecello Da cui finalmente si ergerà la gloriosa Eggmanlandia E la resistenza si piegherà al potere del rubino fantasma Saranno tutti sottomessi Cosa? Tu? Non ho tempo per te Questo potere supera persino le mie aspettative Mi spavento da solo a volte Ciò vuol dire che hai sbagliato i calcoli Per me significa fallire Superare le aspettative è indice di genio supremo Ma non mi aspetto che tu capisca Ma è fede per essere un mini Sonic di un'altra dimensione Lev Dragoon ha perso solo il 10% della sua forza da combattimento Fai merfetto Lo scoprirai molto presto Per me Grazie per la visione! Non sarebbe soddisfacente schiacciarti qui comunque! Radunirò tutta la resistenza! Tempo al tempo! Grazie per la visione! E che non è... Sì! Ce l'abbiamo fatta! Che bello! Vedervi lottare come se aveste una chance? Siete così adorati! Quasi, quasi! Mi dispiace che non potremmo più fare questa specie di balletto insieme! In sole tre brevi giornate il mio piano eliminerà tutti voi esseri irritanti! Aspetta, tre giorni? E quale piano? Se te lo dico non è più una sorpresa! Sai come si dice? Che l'attesa della fine è anche peggio della fine stessa! Forse in questo caso no! L'armata di Eggman è arrivata! È in città! Dobbiamo assolutamente portare la gente via di qui! A chi possiamo mandare? Sonic e Silver si stanno riprendendo! Stiamo affrontando i nemici a Seaside Hill! Tutti devono aiutare! Qui è l'unità 8! Siamo bloccati dal fuoco pesante nemico! Accidenti! Mi sa che non ho scelta! Ok, Spina! Ho un compito difficile per te! Mi serve che torni in città a salvare quei cilini! Devo sapere lo stato attuale di chi non è riuscito a fuggire in tempo! Qui, Espio! Siamo in lotta con gli nemici! Non possiamo cercare i civili al momento! Il conflitto è feroce! Non possiamo soffronere! Sei la nostra unica speranza, Spina! La salvezza è niente di voi! Sono un robot Death Egg! Mi sta proteggendo massa ora! Oh oh! Si sta mettendo male! Credo sia non potrò! Per la stessa! Ma non possiamo ignorarli! Ce la puoi clave! E lo Spina! Ogni nemico! Ottimo lavoro! Perfette abilità! Wow! Ora sì che hanno capito che comanda! Bene! Ora come faccio a fare di meglio? Abbiamo sfondato le linee nemiche! Salvataggio in corso! Abbiamo stabilito una via di fuga! C'è un'uscita sicura! Grazie alla spina le cose si stanno mettendo bene! Continuiamo così ragazzi! Andiamo a dire! Abbiamo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.